C'era anche il referente del Ministero dell'Istruzione, Edoardo Fonti, a Parabita per costruire il primo passo di un racconto sul progetto della nuova scuola da condividere e veicolare a livello nazionale. Presso il Liceo Artistico Musicale Coreutico Giannelli è in atto infatti un processo di diazione del progetto di demolizione e ricostruzione della nuova scuola, finanziato grazie alle risorse del PNRR. L'Istituto Professionale di Parabita diventerà presto polo delle arti del Sud Salento. La giornata di oggi è stata fondamentale perché è un primo passo per incominciare a raccontare i progetti che il PNRR sta finanziando all'interno del mondo dell'istruzione. Siamo qui con il Ministero per fare alcune riprese per documentare appunto quanto il PNRR, quindi con i fondi delle nuove scuole, influenzerà il territorio di questa provincia nel futuro e quindi la costruzione del nuovo edificio scolastico del Liceo Giannelli sarà indubbiamente un primo passo affinché si crei un'ulteriore commissione fra il territorio, l'importanza dell'istruzione e l'importanza della formazione dei ragazzi. Grazie.